Gli spazi verdi delle nostre città sono isole da difendere e da proteggere con ogni mezzo. Il verde ci parla del tasso di vivibilità di una comunità e il livello di benessere della società di oggi si misura anche attraverso questo parametro. Un parco pubblico è un tesoro da difendere e proteggere e rispettare anche. Un parco è una perla verde in una distesa di cemento, un'isola felice, un piccolo angolo di paradiso. Ma non tutti hanno ben in mente questo concetto, anzi per taluni ciò che è di tutti e di nessuno e se di nessuno ci si può fare quello che ci si vuole, sporcare, imbrattare, rompere, calpestare. A Bellocchi il parco dietro le scuole Tombari è ostaggio da diverso tempo ormai, come ci riferiscono i residenti, di teppistelli, poco più che adolescenti che col favore del buio danno sfogo al loro vandalismo. Ultimo episodio ieri sera con conseguenze devastanti e stamattina ben evidenti. I mattoni che si trovano ai piedi di quell'albero e quelli che sono qui vicino a me provengono da pochi metri, qui c'è una salita con delle scale e il selciato era stato naturalmente provvisto anche qui di mattoni. Come vedete sono stati letteralmente sradicati dalla loro sede, da qui probabilmente, non si sa da chi, sono stati ammassati in quella zona. E poi c'è questa bellissima area, questo anfiteatro adibito sicuramente per dare la possibilità a tanti di qualche spettacolo oppure di ritrovarsi ai giovani che però, ahimè, è completamente deturpato da scritte e quindi, insomma, sicuramente non offre uno spettacolo migliore di quello che è. Tutto il vicinato, qui la notte deve subire schiamazzi da parte di tutti i ragazzini, rispondono anche in modo molto arrogante, mangiano le cose nella panchina, tre metri c'è il cestino, buttano tutto a terra. Questa è stata la sorpresa di stanotte, ieri pomeriggio eravamo qui al parco, era tutto intatto e oggi abbiamo ritrovato tutto fuori, volgarità scritte dappertutto, insomma basta, non se ne può più. Avete avvertito anche le forze dell'Ordine? Sì, stamattina io ho chiamato i carabinieri, i vigili, l'avevo già contattato un po' di tempo fa per mettere almeno una telecamera di sorveglianza, ma avevano detto che le spese erano troppo alte, ma dato tutti i danni, hanno sfasciato diverse volte anche quella parte lì del marmo e sono venuti a riaggiustarlo, dato tutti i danni mi sa che una telecamera forse conveniva. Non è purtroppo l'unico episodio di questo tenore in questo spazio verde, anzi in passato alcuni giochi di legno per bambini sono stati rimossi perché resi inutilizzabili per gli atti distruttivi e le scorribande di questi gruppetti. Rompere un bene comune non è solo un atto di inciviltà e di menefreghismo, è una sconfitta morale per chi lo compie.